C'è, se vuoi andare tu nel cunicolo, vai, ma ci deve essere qualcuno là sotto che controva il cunicolo. Eh, sì, a tenere. Eh, se vuoi, Jimbo, se vuoi smettere di andare a terra, puoi andare a tenere il cunicolo. Io... mi odio tutto. No, stiamo un po' bullizzando Jimbo, eh. No, non sto facendo nulla, infatti. Stiamo un pochettino bullizzando Jimbo. È Jimbo che bullizza me, mamma. Guarda, non ho neanche i soldi per permettermi una bibita verde. Aiuto, tirate una scimmia rapidamente, 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 rapidamente. Ho tirato io, ho tirato io, ho tirato io. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma nessuno fa niente, non ho i soldi per... Ma dove cazzo eri tu? Ma perché vai in giro per la... Perché vai in giro per la mappa senza nessuna... Perché non ho armi, ho bisogno di una cassa. Qua tutti in riga, un urlo d'inverno, un urlo di... Guarda, la... Baccia e calma dei sisi. Jimbo, allora, stai con me, per favore. Stay with me. Stay with me. Dai, su, che... Ti salvo io. Prima di andare da via... Prova a prenderti l'AMP40 invece dell'S... TG, che magari è un po' più forte, non lo so. Io adoro... Prenderò l'Olympia. Vabbè, l'Olympia... L'Olympia non lo so, però... L'arma più forte della terra. Capisco quando Mirko ne guarda quando sta parlando e poi c'è il silenzio. Sì, perché mi devo concentrare un attimo ogni tanto. Cioè, non sono più in grado di sparare minchiate e giocare insieme. No, non me ne... No, scusate, mi sono spawnato in faccia. Preoccupata, tanto l'ho già ricaricata, non si può c'è un cazzo per 10. Bravo, Fra. Cioè, arrivano tre zombie da nulla. Tu sei il jolly. Arrivano tre zombie da nulla. Per me è qualche gioco. Fabi... Vabbè. Hai già specificato il rosassone. Ma non so neanche se doverlo tenere in conto il timer quando l'hai tirato e poi lasciava così come... Eh, Fabi, Fabi, ti... Ok. Punti doppi. Minchia qua ti ne arrivano. Eh, beh, è il 18, ragazzi. Cioè, noi su 5, ricordo che in 4 facevamo tipo il 30... 33. Il 30 io non c'è, è tantissimo se ci pensi. Eh sì, ma mi pare che una volta su Verut siamo arrivati in 4 al 30, mi pare. Sì, 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 è quello dove sono stato 8 parti nel video. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. È quello che si chiama... Devasto su Verut. Devasto su... Devasto su fantastico, bellissimo. Cioè, Jimbo, ma che video facevamo? Mamma mia! Mi abbiamo fatto guadagnare denaro, gloria, fama. Minori. Tutto. E alla fine neanche un grazie. Neanche un grazie. Che ha aperto la porta qua sopra. Io adesso voglio... No, 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 no. Ah, no, ok. No, 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 no. Non quella dalla corrente, è mai. No, 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 quella dalla corrente. Mai, perché sennò è finita. Beh, se io vado a terra vuol dire che è stata aperta quella porta. Eh, sì, è finita. Aiuto, aiuto, aiuto. Ragazzi, 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 ragazzi. L'urlo dell'inverno colpisce ancora. Strikes again, ragazzi. Ma che forti che siamo, ragazzi. Mi sto impazzendo. Gianmarco, Gianmarco. Perché stai facendo ste cose, Gianmarco? Perché ho bisogno di punti per le bibite. Ah, ok, allora fai pure i punti, Gianmarco. Zombie, attiva quella trappola che c'è lì dritta. Perché dovrai spendere soldi per attivare una trappola? Perché hai 50 milioni di punti e io ne ho mille. Ma no, ma li teniamo, guarda. Vuoi farti dei punti grati senza problema? Ci sono gli zoppi, Jimbo, Jimbo. Come fa a essere così cieco? Ci sono gli zoppi. Quanta pazienza. Il mio corpo deve subire per stare con voi. Vai, zombie, attiva quella trappola. Ma perché sei finito il round adesso? Vabbè, allora adesso parte il round e tu ti metti qua. Attivi la trappola. Hai il jug? Sì. Ok, bene. Allora cerca di non morire intanto, ovvio così. Fabi si mette qui. Copre questa finestra. Tu attivi questa trappola. Ma se gli zombie arrivano da laggiù, vecchio. Gli zombie arrivano da di là. Se attivo la trappola. Ma se attivo sta trappola non fa un cazzo gli zombie arrivano da di là. Attiva la fila e ti diventa. Attiva, l'attiva, l'attiva, l'attiva a questo punto. Ecco, guarda che arrivano da lì. Ma io, mamma mia. Si, ma ne arriva due. Cioè, non è che dura tutto il round la trappola. Attiva la trappola. Ma siamo al 19, non l'attivo adesso. Non è che poi esplode la trappola. Sì, sì. Si scaricano le batterie. Nel senso, è lì. E beh, deve ricaricarsi comunque. Non vi aspetto più uno, su 5 dove ha un monco. Vai ad attivare la trappola. Quale trappola? Non ho trovato la trappola, perché l'avete attivato. Fra, non abbandonare la tua posizione. Fabi, Fabi! Ok, non abbandonare la posizione. Vado lì. Torno lì. Mi ricorda un flashback del viaggio. Sì, abbastanza. Non abbandonare la partita dove ti sei divertito di più in assoluto. Mamma mia. Eh, ragazzi, ho finito i colpi della Winter comunque. E anche della STG. Perché è esplosso tutto io? Ma sono dietro delle due. Hai trovato la Ray Gun? No. Chi ha trovato la Ray Gun? No, io ce l'ho già, quindi. E questo rumore che cazzo era? Ragazzi. Non guardare me. Fabi, hai trovato qualcosa? No, no. E che cazzo era sto rumore? Ah, boh. Ah, no, qualcuno ha trovato la Ray Gun. Palesemente. Ma io ce l'ho. Non ce l'ho già. Non mi ne ho cassa. No, l'ha trovata Jimbo, l'ha trovata. Maledetto. Senti come sta il silenzio adesso. Si va a suicidare con la Ray Gun. Dietro Jimbo. Eh, aiuto. Jimbo, ho usato gli ultimi due colpi che avevo. Tiro una scimmia. Sei il più forte della terra, cazzo. Ho usato gli ultimi due colpi per salvarti. Non ho più ammo, ragazzi, ho. Trovato l'RTG. Eh, perché ho prendi l'emmo dall'STG a sto punto. Eh, sì, sì, no, ma io sto non avanti così, ma non ho più l'urlo. Eh, sì. Non ho più l'urlo, cioè, inizia a diventare già complicato adesso, ragazzi. Senza il paga pace. Adesso vado a prendere la double tap, mi sa, così fa un po' più di danno l'STG. Io non mi ricordo mai se... No, 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 ho sbagliato tutto. Oh, Fabio, Jimbo, Jimbo, mi eri a fianco, potevi salvarmi la vita. Eh, Fabio, sto sparando, cioè, nel senso. Potrebbe essere un legione problematica. Eh, ti roghi una scimmia. No, ce la fa, guarda. Ce l'ha fatta senza... Eh, sì, eh. Stai vigne a te, sei venti, insomma, come quasi a passare. Allora, ragazzi, dovete... No, io sono andato per comprare la double tap, mi sono dimenticato di comprare la double tap. Quindi adesso devo tornare dalla double tap, mi aspetto fine round perché... Ah, sto io qua che sono senza da... Cosa. Ah, va bene. Là hai vista l'insta, raga, l'insta. Hola. Bene, bene. Boh, comunque, cazzo, dura sta mappa, eh? Cioè, questa a me piacevano... A me piacevano ste mappe qua, difficili. Non come quelle che ci sono adesso, le minchiatine di... Di nuovi code, che cazzo... Hai scudi, 540 mila robe. Questo è code zombie, ragazzi. Qua si vede chi è... Emmo, emmo, tiro una scemmia. Vabbè, vabbè, quando vuoi. Qua si vede chi è... Chi è il giocatore forte. Le prendo? Sì, vabbè. Su Black Ops 4 avevo persino messo che non devi più comprare il gioco perché c'è già di default. Eh, infatti. Cioè, ragazzi, adesso apro un altro sondaggio. Dato che siamo all'epifania, ragazzi. E tutte le feste... Vabbè, vado a prendere il gioco. Vado a prendere il gioco. Chi mi accompagna? Ti accompagno io, ti accompagno io. No, ma forse adesso, forse è l'ultimo. Qua sotto non arriva nessuno. Sì, sì, mi sa che sono gli ultimi. Bene, vai, andiamo, Fabio. E quindi, sondaggio nella parte dell'epifania. Auguri a tutti. Preparatevi a un buon rientro. A lavoro, scuola. Voi che code preferite? Tra World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare di nuovo. Perché ne hanno fatti due di Modern Warfare. Due? Due. Il due è il due anch'io. Il 2019-2022, quello del 2023-2016. Io preferisco, anche io sarei per Black Ops 2 perché hanno fatto mob. Hanno comunque rifatto anche, diciamo, le... Raga, pochi cazzi. La mappa più bella della terra è Transit. Beh, ma anche mob è... Sì, ma Transit... Appena uscita tutti a snobbarla, guarda, è Lowkey, è la mappa più bella della terra. Boh, è carina. È un concept un po' diverso, bello, sì. Se dobbiamo parlare di zombie, io sinceramente, visto che poi hanno messo le mappe... Ragazzi, tranquilli, all China Lake. Fantastico. Siccome avevano messo le mappe quelle originali su Black Ops 3, il sistema di Black Ops 3 di zombie a me piace perché... Più roba hai da fare, sbloccare, eccetera, dico che il mio Black Ops zombie preferito rimane... Qua c'è Fabi... Gordo Crovin fa cagare come l'altro. Eh sì, eh. Mamma mia, grazie, mi fa schifo. Siamo un po' nella merda qua su, grazie. Hai anche tu le scimmie, Jimbo? Beh, no, sto facendo cassa per le trovarle qua. Ok, ok, bene, 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 dai. Bravo, vai su che è meglio. Oh, vado su, vado su. Con senza giagga di nuovo. Ok. Eh, sta iniziando a diventare un po' difficile tenerla qua, eh. Perché? Chi è cazzo che spara con lanciarazzi? Eh, l'unica roba che ho... Lo zappo, lo zappo, Jimbo, lo zappo... Ok. Ok. Bene, 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 ragazzi. Stiamo andando bene, stiamo andando bene, non temete. Guarda qua, coltello balistico. Stanno già rientrando, stanno già rientrando, Jimbo, 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 Jimbo. Ho il coltello balistico io, eh. Aiuto. Orsetto. Eh, bene. Ho il coltello balistico. Aspetta che magari spawna l'amicino. Comunque il double tap fa tanto con l'STG. Diventa tanto più forte col double tap. L'unica cosa che vorrei sapere della community... Oh, porco. Eh, sì, eh, sì, eh, sì. Dicevo, l'unica cosa che vorrei sapere è... Io veramente non mi ricordo mai se è su Black Ops 1 che ti aumenta i danni o se era su Black Ops 2. Ma non è Black Ops 1. Ma non è Black Ops 1. Ma non è Black Ops 1. E infatti io mi dico, è importante che mi ricordo che su Black Ops 2 che aumenta i danni è Black Ops 1 e Black Ops... Cold War... No, Cold War, scusa. Guarda tu ora, va semplicemente danno... Cioè, non vi danno. Ma il ratio di fuoco aumentato. Eh, può essere effettivamente. Però mi sembra che l'StG sia più forte, ma forse appunto perché spara più velocemente. Spara più velocemente. Quindi... Ci può stare. E qualcuno nei commenti lo so. Ci può stare. Bisogna tenere l'ultimo e trovarsi tutte le scimmie. Io ce le ho. E fatelo fuori voi, per favore, che ho finito i colpi dell'StG. Vado a comprare l'Emmo. Eh, che ho fatto il Giofano. Il Giofano è rossissimo. Ho fatto... Ho sbagliato... Ho sbagliato i conti, ragazzi. Ho sbagliato i calcoli e... Stavo per morire male, ma... Per fortuna che la situa è tornata alla... Fra, non coprirlo. Fallo andare a terra. Lascialo. No, ok, va. Fra, scusami, e tu ascolti Gimbo? Gimbo, va. Sì, però ho rischiato. Ho finito quasi i colpi dell'urro dell'inverno di nuovo. Quindi, non bene. Ce l'ho zappato, ce l'ho zappato. Eh, là ho chiuso. Tutto questo potevo aspettare... Eh, alla fine del round, effettivamente. Beh, dove l'hai fatto? Ah, ragazzi, ragazzi, acquetti bug. Ah, questi bug. Già al 21, comunque, eh. Non è male, spero, che il 21, eh. No. Noi siamo arrivati... Dove siete, ragazzi? Io sono sempre nella fine... Ah, sono dietro di taglio. Ok, perfetto, scusa. Non stavo tenendo... Chi vuole stare giù nella finestrella? Vado io, vado io. Perché c'è il discorso... Forse è meglio che stia chi non ha Reagan e cose del genere. Perché... Oh, io no. Sopra è un merdaio. Io ho Reagan praticamente lo punito. Io non ho solo l'STG. Cioè, non si riesce neanche a tenere la finestra qua, ragazzi. Mi ha molto problema, dovrebbe essere semplice. Se mi tenete gli zombie, ho provo a tenere la finestra. Eh, però no, mi sono arrivati vicino. È impossibile. È oggettivamente impossibile. Ma io mi ricordo che combina... Oh, ciò, 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 sono entrati alla finestra, sono entrati alla finestra, fra 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 fra, gimbo, 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 via 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 via. Ok. C'è un bonus, non so cosa sia. Sento il rumore. Cazzo, l'STG non fa una cazzo di niente. Niente. Sì, è come sparare graffette. Caramelle. Tiro una scimmia. La tiene di tutto? Sì, sì. C'è un bonus, ma non riesco a sentire cos'è. Ok, insta-kill. Ah, un golosissimo insta-kill. Ok. Attivate la trappola, fra, attiva la trappola. Ecco, adesso potrebbe aver senso la trappola. Non è la trappola che vi so. Prima non aveva senso, ma adesso avrebbe senso. Ammo. Ammo, ottimo, ottimo. Qual è l'altra trappola che vi so, comunque non so quale. Sì, ma sicuramente è stupida quella trappola. Cioè, o giri la fuori e ti porti dietro gli zombie, e allora la attivi con gli zombie, diciamo, dietro. Sennò, boh, passeranno quattro zombie, è già tanto. Sì, quattro zombie. Eh, non so, io... Io la vedo così, ragazzi. No, 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 no. Ah, 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 ah. Comunque le boss e i betty sono utili, dovrei prenderle. Sì, sì, sono shotta, non credo. Devi fare il giro della mappa. Davvero, sono dall'altra parte. No, 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 sono anche qua, sono anche qua. Ok. Bomba! Allora ti mostro dove sono. Chi riesce a prendere la bomba? Fra vai tu? Eh, dove... Bravissimo, Fra. Dove sono? Aspetta che vengo, vai. Eh, dove c'è la... Ah, qua, queste? No, l'altra. Dove cazzo sono? Ah, ok, grazie. Bene, premi 6 e poi il testo sinistro del mouse. Ok, 6. 6. Sì, non so perché l'ho messo su 6. Cioè, me l'hanno messo su 6. No, è sempre stato su 6. Ah, ok. Comandi di default. Non ho cambiato granché. Comandi del 2001. Però si gioca rigorosamente con mouse e tastiera, ragazzi. Sempre. Oddio. Sono un bel po' il zombie qui. Sempre con mouse e tastiera. Adesso la nuova wave di ProGamer usa il joystick. Le mi usano più mouse. Eh, ma i tempi sono cambiati, ma... I veri. I veri. Ma quello mi dà il cambio che voglio usare un po' la RPG? Vai, 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 assolutamente. Ce ne hai qua, eh. Io ho finito i nuovi colpi del STG. Se qualcuno riesce a farmi fare questo... Oddio, che con... Che casino, ragazzi. Perché arrivano gli zombie perché di sotto... Cioè, sopra è un casino. Inizia a fare un terremoto, tipo. Sì, sì, è un disastro qua, eh. Io, ragazzi, non... Cioè, non posso... Ho solo il ruolo dell'inverno. Dovete sparare un po' voi. Ragazzi... Ragazzi... Aiuto. Mollo una scimmia, mollo una scimmia. Molla, 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 molla. Eh, scusa, è arrivata tardi la scimmia. Ma sono tutti qua? Come dire, un altro, tranquillo. Io... Ecco, bravo. Io stavo scappando. Sto tirando un altro perché lì ci morivo tutta la vita. Eh, sì, sì, sì. È un disastro, è un disastro. Un casino, ragazzi. Gianmarco, ti sento silenziato. Full focus. Sei concentrato? Sì. Ah. Sto aspettando il momento che... Sto aspettando il momento adatto per buttarti a terra. Tu stai aspettando, tu stai aspettando che Fabi vada a terra un'altra volta. Sto aspettando la tua caduta per poi rianimarti, farti andare a terra di nuovo, cioè... Ho capito. Ma questa roba, questo non accadrà mai, lo sai.